Garda Baldo, in questo gruppo abbiamo un'attività ricettiva che risale pensate al 1908, anno in cui il capostipite della dinastia apre una trattoria con cucina casalinga, le successive generazioni hanno poi ampliato l'attività ed oggi gestiscono un hotel rinomato insegnito del marchio ospitalità italiana della Camera di Commercio. Poi avremo una fallegnammeria colpita dalla morte del titolare in cui la vedova con coraggio e tre figli piccoli ha proseguito l'attività, poi una classica osteria di una volta con annesse attività di barbiere e gioco delle bocce trasformate in una prestigiosa enoteca con degustazione. Ci fa piacere avere già qui, lo salutiamo, il componente della giunta camerale Paolo Arena, a questo punto possiamo dare inizio alle premiazioni e abbiamo la dental di Vesentini, Arturo e Bruno, SNC di Affi, laboratorio odontotecnico artigiano, ritira il premio Arturo Vesentini. Poi abbiamo l'albergo 4 stagioni di Nadia Manara e C di Bardolino, ecco stavamo parlando di questa gestione albergo impresa, oltre 100 anni di attività, candidata all'iscrizione al registro delle imprese storiche, ma restiamo però nell'albergo, chiedo scusa perché qui insomma nel 1908 volevo restare, prego signora venga qui avanti, perché leggo nel foglio che è, Emilio Arietti apre una trattoria a Bardolino, suo nonno, bene. Poi con il fratello dà via all'albergo, alla produzione di vino e successivamente apre una fabbrica della Graspa. No, è bello che mi hanno scritto Graspa. Negli anni anche i figli di Emilio vengono inseriti nell'attività, contribuiscono a far conoscere la struttura grazie alla cucina tradizionale e anche negli anni della guerra un albergo che continuò a svolgere la sua attività ricettiva essendo occupato dagli ufficiali delle truppe tedesche. Negli ultimi anni l'albergo ha subito un costante miglioramento e abbellimento, ma di tutta questa storia la cosa più bella che si ricorda qual è? Beh, mi ricordo il ristorante, che io adesso non proseguo più, però mi ricordo il ristorante. Penso che metà Verona si sia sposata da me. Metà Verona, eh? Magari anche il signore che prima partiva in camio e setta nel ristorante, perché adesso sì, siamo vicini. Adesso facciamo la camera per la colazione, comunque insomma va bene così. E il lago va bene, eh? Sì, devo dire che sono proprio contenta di abitare a Bardolino. Oh, che belle cose, finalmente. Ma mi sembra che abbiamo belle notizie da oggi, perché continuiamo a parlarci, a volte a piangerci un po'. Piaggio molto, ma quando torno a Bardolino mi piace. E poi ci sono tanti veronesi che magari devono fare i conti e dicono andiamo sul nostro lago e lo hanno anche riscoperto, vero? Perfetto. Benissimo, andate sul lago, andate a Bardolino, anche d'inverno, perché si sta bene anche d'inverno. Va bene, grazie allora all'albergo quattro stagioni, dal resto si chiama. Poi abbiamo, beh, anche qui una bar trattoria, la bar trattoria passeggiata di Castelletti Elena, gestione del bar trattoria, ritira il premio Renata Padovani di Caprino. Poi qui andiamo a un'enoteca, è questa l'enoteca che è, enoteca da Corrado di Giuseppe Fraccari di Caprino Veronese, gestione enoteca, partita come enoteca oppure no? Come osteria, come osteria, tanto tempo fa, poi è diventata enoteca perché si è cominciato a bere vini sempre più buoni, quindi bisognava seguire anche i clienti e dare sempre qualità maggiore. E tanti tedeschi, tanti turisti, tanti stranieri. Ma no, tanti veronesi. Ah, tanti veronesi. Tanti clienti veronesi. A Verona si beve bene, per cui i veronesi se ne intendono. Bravissimo, complimenti. Grazie. Ed è Paolo Arena che consegna a questo punto all'enoteca da Corrado di Giuseppe Fraccari. Poi abbiamo Francesco Vedovelli, meccanico, meccanico di Garda, eccolo qui. Quindi la Residence Villa Rosa di Garda, conduzione Residence Villa Rosa, ritira il premio Luigi Carlo Bertamè. Vedete anche la tipologia, come cambia da zona a zona. Sergio Menini di Lazise, commercio al minuto di vini, bibite e liquori. Poi abbiamo la Falegnameria MT di Magagnotti e Turrina di Rivoli Veronese. Falegnameria e costruzione in fissi in legno e legno alluminio. ritira il premio Delfina Turrina. Insomma, questo è un altro albergo noto, mi pare. L'albergo Belvedere, lo conoscete di Lenotti, Gianluigi e C. Stiamo parlando di San Zeno di Montagna e lì c'è sicuramente un Belvedere perché si domina il nostro lago e si è a due passi dalle vette del Baldo ed è il premio ritirato da Gianluigi Lenotti. Poi abbiamo l'imbianchino Guglielmo Peretti di Torri del Benaco. Eccolo qua, riceve il riconoscimento dalle mani di Paolo Arena. A questo punto abbiamo anche la possibilità di fare la foto di gruppo. Magari facciamo un passo avanti, mettiamoci in corrispondenza della linea azzurra così permettiamo ai nostri fotografi e ai nostri operatori di realizzare l'immagine. Poi naturalmente scendendo dal palco si può ritirare la scultura in marmorosso Verona che viene consegnata quest'anno ed è questa, richiordavamo, una delle novità. Prego, benissimo.